Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Lit Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuovissima review o recensione dedicata al falco lunare, arma esotica dell'anno 1 rimasta per un anno intero esclusiva a Playstation. E lo so, è un po' tardi per recensirla, ma per un senso di completezza del mio canale ho deciso di portarla allo stesso. Inoltre il motivo per cui arriva così tanto tardi è semplicemente perché nei mesi precedenti hanno continuato a modificarla e ho deciso di aspettare il momento giusto che la situazione si stabilizzasse. Quindi, incominciamo. Partendo delle statistiche, il falco lunare disporrà di un rato di fuoco discreto, un impatto molto buono, una gittata piuttosto bassa, buona stabilità, buoni tempi di ricarica e dei caricatori di 13 colpi. Per quanto riguarda i perk, due singoli e due rami di potenziamento. Il primo perk sarà fortuna nella camera, un colpo a caso nel caricatore infliggerà danni maggiori. Il secondo perk invece sarà assi nella manica, altri due proiettili a caso nel tuo caricatore infliggono ingenti danni bonus. Quindi in totale su 13 colpi a vostra disposizione, 3 colpi infliggeranno danni aumentati. Per quanto riguarda invece due rami di potenziamento, nel primo troveremo le balistiche e quella che vi consiglio di utilizzare è quella aggressiva, perché sì, non migliorerà di tanto la stabilità, ma la renderà principalmente verticale, il che vuol dire più facile da controllare e oltre a ciò aumenterà leggermente pure l'impatto. Mi rendo conto che fornisca meno gittata che utilizzando la balistica di precisione, ma nel complesso e soprattutto sul fronte della stabilità lo trovo un miglior compromesso. Nel secondo ramo invece potremmo scegliere tra ricarica rapida che aumenterà la velocità di ricarica dell'arma, forgiatura martello che aumenterà la stabilità, oppure estrazione celer che aumenterà la velocità con cui l'arma può essere estratta. La mia scelta in questo caso ricade su forgiatura martello. Avere una gittata maggiore con quest'arma vi consentirà di infliggere danni considerevoli anche a notevoli distanze, rendendo quest'arma più efficace anche per il medio raggio. In conclusione, il foalco lunare attuale è soltanto l'ombra di quello che era nell'anno uno, sia per la possibilità di poter trovare più colpi fortunati nello stesso proiettile, arrivando addirittura a shottare un singolo nemico con un singolo proiettile, sia per le statistiche generalmente migliori. Rimane comunque un'ottima arma sia per il pvp che per il pve, grazie sempre ai suoi danni elevati e i suoi colpi fortunati, forse non più la primissima scelta, senza dubbio però non un'arma da buttare. Dunque ragazzi per quanto riguarda il foalco lunare è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!